Sindaco, il 2015 Terramano, com'è stato? È stato un anno positivo, un anno dove abbiamo lavorato tanto, sicuramente un anno migliore del 2014, non c'è dubbio, un anno però dove abbiamo fatto tante cose, perché abbiamo continuato il lavoro sulla revisione della spesa. Abbiamo ridotto di quasi 3 milioni di euro la spesa personale, entro il 2017 a questi 3 milioni si aggiungerà un altro milione, con quasi 100 persone che vanno in prepensionamento. Abbiamo lavorato anche sulla riduzione delle tasse, vorrei dire che per il secondo anno consecutivo abbiamo ridotto la Tari, cosa che noi abbiamo fatto, gli altri comuni hanno annunciato, ne abbiamo fatto. Quasi 15 milioni di euro di opere pubbliche, 870 mila euro di manutenzioni, poche, ma le abbiamo comunque spese, e ci sono altri 9 milioni pronti per il 2016 per nuove opere pubbliche. Di errori ne abbiamo commessi e guai se così non fosse, abbiamo inserito la compartecipazione sul sociale e poi abbiamo dovuto, come dire, rivedere un po' il discorso condividendo, ma questo ci sta. Un buon amministratore questo fa, se si rende conto che c'è un piccolo errore torna indietro, e questo l'abbiamo saputo fare. Programmazione per il 2016? Ma guardi, io ho indicato 4 progetti strategici, poi ce ne saranno tanti, sicuramente il recupero dell'ex manicomio, 35 milioni di euro che la regione ha messo su questo progetto, credo che aprirà la strada al recupero dell'ex manicomio. Poi sicuramente il Port Fair, i 5 milioni di euro per la mobilità alternativa, per la banda ultralarga e per la cultura. Teramo, città del piano a bicicletta, ora basta con gli indugi, bisogna applicare questo progetto, nel quale crediamo e che ci ha fatto vincere per ben due volte le elezioni, e poi la cura e il decoro della città. Ce ne è bisogno, almeno un mutuo di un milione di euro.